Il primo è stato fatto in Italia. Il secondo è stato fatto a questa, poi, la prima volta che è il nostro curatore e l'ora che ci vediamo qui, la Francia, la Carriera Egitto è un fattore, e c'era, no, mi seguiva, e basta. E noi siamo stati bravi a combattere il suo futuro, Senti, c'era uno stagione, non ci accontentiamo dell'agenteria, vogliamo loro. Però il pubblico non si accontenta. Per la Nazionale Massile, lui la pensa come noi, il 15 gradino dopo il 3-2. Adesso penseremo solo a se non fare. Grazie, grazie Bucalistro. Scusa, una cosa sola, ti chiedo. Allora, si è alzata la sticella. Possiamo dire che questa è stata la migliore Italia finora, secondo te? La migliore Italia, anche se con qualche patema d'animo solo nella parte finale del secondo setto. Sì, oggi è andato molto bene il break, cosa che le altre partite abbiamo sofferto. L'uro e la difesa è stato eccezionale e potevamo fare ancora di più, perché so che la squadra ha queste qualità per spingere al massimo. Dobbiamo sistemare delle cose, però oggi l'Italia c'era, abbiamo visto anche il secondo set che... Polonia o Turchia o è lo stesso? È lo stesso. Ci penserete da domani? Penseremo domani, oggi ci riposiamo e poi ci cercherà ci cercherà. L'ultima cosa, secondo te il muro è stato decisivo, non ne ho contati 13, 14, sicuramente è stato un elemento importante per questa vittoria. È stato importantissimo, abbiamo dei giocatori che fanno questo, devono fare questo, è un mestiere. E lo fanno bene. Quindi vacciniamo i muri e andiamo avanti. Grazie e complimenti. Grazie.